Acqua e spa ogni giorno ci prendiamo cura della tua acqua etichette mancanti o illegibili maxi sequestro di smalti e luci da labbra in due negozi della piana in particolare le fiamme gialle del gruppo di lucca intervenute in un esercizio commerciale di alto pascio hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 700 smalti e luci da labbra privi delle indicazioni minime previste dal codice del consumo. Successive investigazioni hanno consentito di individuare anche un esercizio di Monte Carlo. Qui erano oltre 1.200 gli smalti per le unghie la cui etichettatura non rispettava gli standard. La multa ai titolari potrà arrivare fino a 35.000 euro e la merce sottratta dalla disponibilità degli esercizi sarà, a procedimento concluso, definitivamente confiscata.